Musica Edizione della notte del nostro telegiornale che apriamo con la politica perché i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno parlato oggi di disastro dei conti della giunta d'Alfonso chiedendo alla presidenza del Consiglio il commissariamento della Regione Abruzzo, tutti i particolari nel servizio di Paolo Renzetti. Consigliera Marcozzi, parlate di conti tutt'altro che in ordine della Regione Abruzzo e per questo avete chiesto al Presidente del Consiglio Gentiloni di commissariare la Regione Abruzzo, un atto forte? Un atto forte, abbiamo chiesto di sostituirsi al Presidente D'Alfonso che evidentemente non è in grado di governare questa Regione, non è in grado di mettere i conti in ordine. Il riaccertamento del disavanzo è fermo al 2012, siamo nel 2017 quindi di fatto non sappiamo a quanto ammonta il disavanzo. Questo comporta l'impossibilità di ulteriore indebitamento per investimenti, dunque quando ci raccontano che non ci sono i soldi ad esempio per finanziare la costruzione di un ospedale è perché non possono contrarre nuovi mutui, perché non hanno fatto i riaccertamenti e perché non hanno i conti in ordine. Ci tengo a precisare una cosa, la Regione Abruzzo è l'ultima di Italia, cioè da quando sono state inaugurate queste nuove regole sull'armonizzazione dei bilanci, sulla redazione dei bilanci, tutte le Regioni si sono adeguate tranne Regione Abruzzo. Siamo gli unici, siamo un unicum in Italia, siamo l'ultima Regione d'Italia per cui chiediamo al Presidente Gentiloni di fare quello che non è riuscito a fare il Presidente D'Alfonso. In consiglio avete più volte chiesto e fatto degli appunti anche alla Giunta D'Alfonso, ci sono state le risposte che vi aspettavate? Beh no, ci aspettavamo un pochino di collaborazione, noi abbiamo sempre spinto appunto per la chiarezza dei conti, per il riaccertamento e per una maggiore prudenza e per una maggiore efficacia nella redazione del bilancio, ma non ci hanno mai ascoltato, per questo motivo insomma noi crediamo che debbano farsi da parte o farsi commissariare oppure se vogliono vadano a casa, visto che vogliono andare tutti quanti in Parlamento ultimamente e lasciano governare chi ha intenzione di fare del bene alla nostra Regione. Ci spostiamo all'Aquila adesso dove c'è una nuova giunta comunale. Il Sindaco Biondi ha scelto età media molto bassa e quattro donne come prevede la legge. Per sé il primo cittadino tiene la delega alla ricostruzione e al personale, il servizio di Daniela Rosone. È fatta la giunta comunale del nuovo Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi che la prossima settimana verrà presentata. Non c'è più il segretario comunale forzista Stefano Morelli, al suo posto il neoconsigliere Sabrina Di Cosimo, promossa subito assessore. Per il resto sono state confermate tutte le previsioni, anche quella di Annalisa Di Stefano, assessore tecnico di centrodestra, che avrà la delega pesante al bilancio. La linea dura del Sindaco Pierluigi Biondi è prevalza, i forzisti sono passati infatti da tre assessori richiesti a due, mantenendo però sia il Vice Sindaco Liris, braccio destro di Biondi, che il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Tinari. Non entra, Raffaele Daniele dell'Udc, un'età media molto bassa peraltro. Il Sindaco Pierluigi Biondi tiene a sé la delega della ricostruzione, ma anche quella del personale. Guido Liris, Vice Sindaco, opere pubbliche e altre deleghe. Sabrina Di Cosimo si occuperà della cultura. Luigi Deramo, delle politiche urbanistiche dell'edilizia. Emanuele Imprudente, territori, ambiente, rifiuti e altre deleghe, compresa quella della protezione civile. Alessandro Piccinini sarà il nuovo assessore al commercio e allo sport, ma anche all'avvocatura. Carla Mannetti si occuperà di trasporti e infrastrutture di mobilità urbana e sicurezza sadale, ma anche di politiche comunitarie. La new entry Monica Petrella si occuperà di politiche giovanili. Francesco Bignotti, dell'Aquila Futura, di agricolture, politiche sociali, politiche abitative, politiche per gli studenti. Annalisa Di Stefano, come dicevamo, al bilancio. Insomma, io credo che sarà un'aggiunta in grado di fare bene se tutti seguiranno i canoni e le regole che ci siamo date. Quelle del lavoro continuo, dell'impegno in favore della città e soprattutto dell'Aquila al primo posto rispetto alle ambizioni personali e alle esigenze dei singoli partiti. Lei ha tenuto a sé una delega importantissima, quella della ricostruzione. Sì, in realtà due, perché anche quella del personale. Sono due settori molto complessi. Il personale ha bisogno di una profonda riorganizzazione e quindi ho preferito in questa fase assegnare all'autorevolezza del ruolo di primo cittadino questa competenza. E poi la ricostruzione che ho praticato, diciamo, nella mia prima esperienza da sindaco. E quindi conto di salire su un treno sì che va di corsa, che però sono in grado di concorrere a guidare. E torniamo adesso ad occuparci della vicenda dello sgombero delle palazzine Ater in via Lago di Borgiano, a Pescara. Le novità sono state annunciate questo pomeriggio dall'amministrazione comunale di Pescara. Il servizio. Siamo al COC del comune di Pescara. Sindaco Alessandrini è appena terminata l'ennesima riunione sull'emergenza che c'è in via Lago di Borgiano. Qual è la situazione a tutt'oggi? Noi siamo contenti del fatto che ad oggi noi siamo in grado di dire che 228 dei 235 abitanti di via Lago di Borgiano sono stati contattati, hanno una sistemazione per la notte e questi altri ultimi set verranno raggiunti telefonicamente oggi dalle nostre assistenti sociali. Abbiamo trovato una rete di protezione che si articola nella sistemazione essenzialmente in strutture alberghiere e anche in una comunale di via Valle Furci. C'è anche una quota di persone che ha trovato alloggio presso amici e parenti. Nella serata di oggi ci sarà l'assegnazione di sette case, di sette immobili che ATER ha messo a disposizione e cui se ne aggiungeranno due a partire della settimana prossima. Ieri la notizia è che il Regione Abruzzo ha stanziato circa 650 mila euro per la sistemazione di 46 immobili complessivi. Dal punto di vista del Comune, che ovviamente si è visto arrivare questa emergenza sociale e che certo non può lasciare da soli i propri concittadini, c'è anche la richiesta della declaratoria di uno stato di emergenza regionale, visto che tutto questo, come si dice in gergo, la palla è partita all'esito di sopralluoghi effettuati dopo lo sciame sismico del settembre-ottobre scorso. Questa è una via molto importante perché può aprire strumenti normativi, vie normative che significano forme di finanziamento. Lì oggi sono andato in via Lago di Borgiano e tutti mi ponevano la questione individuale, ma il sindaco ha il dovere di guardare all'insieme. Noi per esempio proprio ieri sera abbiamo licenziato una delibera di giunta in cui sono presenti dei criteri che vogliono essere oggettivi per tentare di dare una risposta neutra ad un bisogno che è grande. Fermo restando naturalmente l'avere i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ecco che la disabilità, i bambini piccoli e l'anzianità sono i criteri con cui verrà graduata la formazione di questi albi che andiamo a comporre. Istituzioni al lavoro per scongiurare i 135 licenziamenti paventati dalla Daico di Chietiscalo. Lunedì ci sarà un incontro in regione mentre il sindaco Umberto Di Primio continua ad avere parole durissime sul comportamento dell'azienda e la servizio di Andrea Costantini. Sindaco, lei si è preso un impegno due giorni fa di essere amplificatore di quelle che sono le istanze di lavoratori della Daico, 135 licenziamenti che sono stati, diciamo così, tra virgolette promessi dalla proprietà di Daico. Ci sono delle ulteriori novità rispetto all'incontro che lei ha avuto ieri? Intanto direi che sono stati minacciati più che promessi questi licenziamenti. Ci sono novità nel senso che abbiamo fatto un'azione di diplomazia nei confronti sia di Confindustria perché si facesse in qualche modo portatrice delle istanze del territorio, delle istituzioni nei confronti della proprietà di Daico. Abbiamo ovviamente lavorato anche con il prefetto che ringrazio per la disponibilità che ha dato perché ci possa essere un tavolo neutrale rispetto alle istanze da rivendicare. Quella dell'azienda che non è assolutamente condivisibile in ragione di quello che hanno sottoscritto l'11 maggio quando hanno affermato esservi una crescita addirittura delle nostre unità produttive e non certo un problema di tenuta di quelle fabbriche. E poi c'è una istanza, quella dei lavoratori, che giustamente chiedono di avere garanzie sul proprio futuro. Non è possibile pensare che una vertenza si apra senza alcun campanello d'allarme, senza che vi siano state abisaglie, senza che vi siano problemi nella produzione. Allora, siccome siamo preoccupati anche per questa condotta avuta dall'azienda, credo che sia necessario che tutti, tutte le istituzioni, la Regione che ci ha convocati, parteciperemo con il Presidente Lolli all'incontro fissato per lunedì, ma c'è un altro incontro fissato da Confindustria. Insomma, mi preoccupa questa non univocità nella trattazione dell'argomento. Sono molto preoccupato perché perdere ulteriori 600 posti di lavoro in questa nostra area vuol dire per davvero mettere in crisi il sistema sociale della nostra città e dell'intera Val Pescara. La fascia resta al prefetto? Assolutamente sì. Fin quando io non avrò la chiarezza su questa vicenda, io non dico la soluzione. La chiarezza è fondamentale, oggi sia chiarezza, che non ci si nasconda dietro un dito e che non si prenda in giro la gente. Allora, fin quando questo non ci sarà, la fascia sta benché depositata lì, non ne ho bisogno per esercitare il mio ruolo. Voglio che il mio ruolo sia di aiuto a chi oggi teme di perdere il posto di lavoro. Cronaca adesso. Una donna di 39 anni è stata trovata morta questa mattina nella sua abitazione di via Lago di Bolsena a Pescara. Il corpo della giovane originaria di Foggia è stato trovato sul letto con un cappio attorno al collo. Poco chiaro al momento l'accaduto. La polizia ha il lavoro per ricostruire i fatti e per capire se si sia trattato di un suicidio come inizialmente ipotizzato. In questura gli investigatori stanno ascoltando un uomo con cui molto probabilmente la 39enne aveva una relazione. È stato lui a trovare il corpo e a lanciare l'allarme. Nell'abitazione per ricostruire la dinamica dei fatti, la polizia, la scientifica, la squadra volante e la mobile. È presente anche il medico legare Ildo Polidoro che sta eseguendo tutti gli accertamenti e il pubblico ministero Gennaro Varone. Inutile l'intervento del 118 arrivato con l'ambulanza medicalizzata. Il personale ha potuto solamente constatare il decesso della donna. La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento di interdizione della durata di sei mesi emesso dal GIP del Tribunale di Chieti nel marzo scorso a carico dell'ex rettore dell'Università di Chieti Pescara Carmine Di Iglio e del direttore generale Filippo Del Vecchio. A giudizio della Suprema Corte non sussistono esigenze cautelari tali da giustificare il provvedimento. Di Iglio all'indomani della sentenza che ne decretò l'interdizione scelse di dimettersi aprendo la strada all'elezione del nuovo rettore Sergio Caputi. Del Vecchio al contrario non si è fatto da parte. Adesso è intenzionato a tornare al proprio posto nonostante le resistenze di una parte del mondo accademico. Ci spostiamo in provincia di Teramo perché la questura di Teramo durante il periodo estivo aumenterà i controlli nei comuni di Alba Adriatica, Martinsicuro e Villa Rosa, territori dove si concentra il maggior numero di reati per furto, spaccio e prostituzione. Inoltre è già attivo dal 1 luglio un posto fisso di polizia ubicato nei locali dei vigili urbani di Alba Adriatica. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. La questura di Teramo annuncia l'arrivo di rinforzi dal Ministero per presidiare a tappeto il territorio di Alba Adriatica, Martinsicuro e Villa Rosa durante il periodo estivo. Il nuovo servizio di controllo e sorveglianza da parte delle forze dell'ordine è stato attivato già dal 1 luglio insieme all'apertura di un posto di polizia ubicato nei locali dei vigili urbani di Alba Adriatica. La zona nord del Terramano si conferma dunque il territorio più a rischio della provincia dove si concentra il maggior numero di reati per furto, spaccio e prostituzione senza parlare degli ultimi due delitti avvenuti lo scorso mese di giugno l'omicidio del ragazzo Rom e dell'oncologa Esther Pasqualoni. Siamo partiti come l'anno scorso con l'apertura di un presidio di polizia chiaramente temporaneo quest'anno nella zona di Alba Adriatica, ci siamo spostati perché abbiamo visto che Alba Adriatica rispetto alle altre località della zona nord è quello che ha avuto i più eventi delittuosi e quindi dal 1 luglio siamo presenti in quella zona attraverso proprio un presidio più sostanzioso di uomini e di mezzi. Ma limitato all'estate? Sì, questo è un discorso che è limitato all'estate, noi già comunque presidiavamo anche durante gli altri periodi dell'anno questa zona che è particolarmente a rischio per l'alta presenza di pregiudicati, ma visto il notevole afflusso anche turistico dal 1 luglio abbiamo stabilito un servizio fisso di volante, quindi ci saranno delle macchine dedicate esclusivamente a quella zona che faranno poi capo a dei locali dove noi ci appoggiamo che ci sono stati gentilmente concessi dal sindaco di Alba Adriatica e a cui faranno capo appunto queste macchine nel caso dove devessero redigere degli atti o delle attività che vengono svolte. La situazione non è di particolare gravità, però visto che c'è questo notevole afflusso di persone e visto anche i recetti, episodi criminosi che si sono verificati in quella zona, noi già preventivamente avevamo predisposto questo piano che continueremo comunque a predisporre ogni estate. Le misure di controllo e prevenzione che saranno messe in atto dalla Questura per il periodo estivo e che si concentreranno in particolare sui comuni di Alba Adriatica, Martinsicuro e Villarosa sono state concertate da tempo in sinergia con il prefetto di Teramo, Graziella Patrizzi. Cronaca clamoroso rinvenimento di droga a San Vito Chietino operato dai carabinieri della compagnia di Ortona e della locale stazione. Alle 7.30 di questa mattina infatti una pattuglia ha notato un furgone bianco parcheggiato nell'area di sosta a Tigua alla spiaggia fermo a causa di una foratura. Dopo qualche istante i due carabinieri hanno avvertito un forte odore speziato tipico della marijuana. Hanno richiesto l'ausilio allora di una unità cinofila antidroga che ha confermato il sospetto. Una volta aperto il furgone sono state trovate all'interno del vano carico delle balle avvolte in cellofan contenenti marijuana per un peso complessivo stimato in circa una tonnellata. Le prime ipotesi lasciano ragionevolmente ritenere che si trattasse di un carico in transito abbandonato a causa di una avaria meccanica. È scattato quindi immediatamente il sequestro del furgone e della droga in esso contenuta e le conseguenti indagini per risalire a coloro che la trasportavano. Ci spostiamo all'Aquila adesso. Movida controlli nella notte per droga e consumo di alcol. Un arresto e una patente ritirata. Questo è il bilancio del servizio della questura che ha impiegato anche unità cinofile. Germana Dorazio. Una serata movimentata quella nel centro della Movida cittadina. Ma non per il divertimento sfrenato quanto per il fuggi-fuggi provocato dai cani poliziotto al lavoro da tarda sera. Le squadre di polizia della questura dell'Aquila, tra le quali la mobile di Niglio e la volante di Mariani, hanno infatti lavorato da dopo la mezzanotte nella zona tra Piazza Regina Margherita, il Corso Stretto e Piazza Chiarino. Grazie all'uso dei cani antidroga gli uomini della polizia hanno arrestato un 22enne che aveva indosso 45 grammi circa di hashish, bilancino e occorrente per il confezionamento delle dosi. I cani hanno fiutato diverse persone, ma non hanno trovato sostanze prima che ci fosse il fuggi-fuggi al loro passaggio. Chiaro segno del consumo diffuso di droga nelle serate aquilane, incrementato chiaramente nel post terremoto. Così come è salito considerevolmente anche il consumo di alcolici, allo scopo di limitare infatti gli ubriachi al volante, sempre ieri notte, tre posti di controllo degli uomini della polizia con l'etilometro, sono stati messi sulle vie di deflusso dal centro cittadino. Il bilancio dei numerosi controlli effettuati è stato comunque positivo, con una sola patente ritirata per guida in stato di ebbrezza, a testimonianza che la presenza delle sirene sia un ottimo deterrente dal divertimento sconsiderato e pericoloso. Per quanto riguarda le attività commerciali, sei locali hanno violato il regolamento comunale che prevede il divieto, dopo la mezzanotte, di diffusione di musica ad alto volume, tanto da poter essere sentita dall'esterno del locale. Le sanzioni previste sono andate da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500. Per il rispetto degli orari di chiusura, tutti i regole controllati, eccetto un'attività ancora aperta dopo le due. Restiamo sempre all'Aquila, sul Sipario, sul Festival della Partecipazione, sino a domenica. Più di 70 eventi distribuiti nei luoghi più significativi della città e tutti con al centro la partecipazione. Ha preso il via la seconda edizione del Festival della Partecipazione, promosso dall'Alleanza Italia Sveglia, Action Aid Italia, Cittadinanza Attiva e Slow Food Italia, assieme al Comune dell'Aquila, che fino a domenica 9 luglio porterà nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei palazzi storici e nei teatri delle città, musica, spettacoli e buon cibo. E tutti quei cittadini che vorranno prendere parti a una quattro giorni di confronto, riflessione, rigenerazione urbana e politiche dal basso. Durante l'evento inaugurale, moderato da Francesco Verderami, giornalista del Corriere della Sera, il sindaco della città Pierluigi Biondi ha sottolineato, in una città come l'Aquila, quello della partecipazione è un tema di grande attualità, soprattutto la luce degli investimenti in essere di quelli che andranno fatti in futuro. L'anno scorso abbiamo chiuso dimostrando che la politica non è monopolio dei partiti, ha ricordato il segretario generale di Cittadinanza Attiva, Antonio Gaudioso, quest'anno, con Cittadini di Serie A, vogliamo batterci affinché tutti possano avere davvero gli stessi diritti. L'idea, e quello che è nato lo scorso anno, è stata una sorta di grande comunità che poi nel corso dell'anno ha lavorato, discusso in giro per il paese, dei processi partecipativi e di come questi potevano incidere nel cambiamento. La partecipazione è oggi il principale strumento di lotta ai meccanismi di esclusione, ha detto invece Gaetano Pascale, presidente di Slow Food Italia, mettere i cittadini in condizione di partecipare equivale a superare l'individualismo e a porre le basi per l'elaborazione di un pensiero collettivo e per riscoprire il senso di comunità. La partecipazione per noi prima di tutto deve essere uno strumento di lotta all'esclusione. Oggi viviamo una società che tende ad escludere troppo i cittadini, riteniamo che questo strumento debba essere utilizzato nel miglior modo possibile per includere. Piano Roseto, tra Crognaleto e Cortino di Teramo, ospiterà la 158esima Fiera della Pastorizia, una manifestazione più che mai strategica per rilanciare i prodotti della montagna teramana, duramente colpita dagli eventi calamitosi. Fine settimana all'insegna del formidabile patrimonio vino della provincia teramana e dei prodotti della sua montagna. Torna alla 158esima Fiera della Pastorizia a Piano Roseto, Crognaleto e Cortino. Il patrimonio vino per l'Abruzzo economicamente che cosa rappresenta e quanto rappresenta? La Pastorizia rappresenta tanto a livello storico tradizionale della nostra regione e attualmente abbiamo un patrimonio importante che è stato molto provato a seguito della neve, del maltempo, tutta l'economia agricola montana è stata colpita, la Regione insieme al Governo sta mettendo in campo una serie di azioni e di strumenti. Innanzitutto l'aiuto concreto, abbiamo erogato un sostegno economico importante, 400 euro a bovino, 60 euro a dovino e 20 euro a suino, sono fondi che sono stati erogati proprio in queste settimane dall'organismo pagatore. La fiera di quest'anno assume un valore strategico, importante, fondamentale per l'economia nel suo complesso e io invito tutti a sviluppare una filiera corta, i nostri ristoranti, i nostri chalet, i nostri alberghi, tutti coloro che fanno turismo devono utilizzare i prodotti dell'agricoltura abruzzese e in maniera particolare i prodotti della Pastorizia abruzzese. Alla fiera della Pastorizia di Piano Roseto saranno presenti 75 allevatori di ovini, 45 aziende produttrici di prodotti locali e 10 proloco, ognuna con un proprio programma estivo di eventi. L'organizzazione prevede 12.000 visitatori e rilancia l'invito a tutti gli operatori turistici di visitare la montagna terramana e di consumare prodotti dei comuni del cratere. Una fiera che deve sostenere i prodotti locali, è una fiera che deve un po' far ripartire l'economia? Sì, è la 158esima fiera e quindi ha un'antichità credibile, rappresenta la nostra storia, la nostra tradizione. Serve quest'anno particolarmente per far ripartire, far riconoscere, far rivitalizzare quel territorio martoriato. Noi, è un invito che faccio anche a tutti i cittadini della nostra provincia, ma soprattutto i turisti, per visitare quel luogo, andare a vedere i nostri pastori, le nostre greggi, i nostri prodotti che verranno assaggiati lì, perché per noi è fondamentale. È un posto bellissimo, Piano Roseto, è poco conosciuto, ma ne vale la pena. Dentro al parco del Gran Sasso Laga, per cui in quel paesaggio fantastico, poter degustare i nostri prodotti tipici, in allegria con la nostra popolazione della montagna, è un fatto importante e credo che ne valga la pena. Appuntamento di grande prestigio domani sera al Teatro Marrucino di Chieti, dove si esibirà uno dei più grandi pianisti esistenti, il russo Alexander Kobrin, il quale si alternerà con il maestro Giuliano Mazzoccante, nell'esecuzione di un repertorio che celebra i 190 dalla morte di Beethoven. Maestro Mazzoccante per i 190 anni di Beethoven, un evento straordinario al Marrucino domani sera, la possibilità per lei di questo duetto con il miglior pianista al mondo, come lei lo ha definito Alexander Kobrin? Sì, in realtà sarà una staffetta, perché noi ci alterneremo sul palco nella prima parte, esigureremo una sonata a testa e anche nella seconda. Poi Alexander Kobrin, nella mia generazione, io quest'anno ho compiuto 40 anni, lui ha qualche anno meno di me anche, è sicuramente il pianista più importante al mondo, vincitore dei più prestigiosi concorsi in assoluto, è un'icona per la musica classica e per il pianismo internazionale. Tra l'altro lui è russo, ma vive a New York, ormai insegna in una grandissima accademia, la più prestigiosa probabilmente al mondo e ho la fortuna, l'onore, l'onere di ospitarlo come anche amico qui a Chieti, ma devo dire la gioia di poter proporre una serata speciale di grande cultura e anche di grande intensità, perché chi ci sarà potrà veramente vedere dal vivo, da vicino, vivere, a parte me che sono delle città e mi hanno già ascoltato tante volte, ma vivere un grande artista. Presidente Sicari, per la deputazione, insomma, è un grande evento, anche perché ci avviciniamo ai 200 anni, dal teatro Marrucino, possiamo dire che è una sorta di bell'antipasto di quello che potrà essere il prossimo gennaio. Certamente l'auspicio per il bicentenario è un bel viatico, noi pensiamo di avere il maestro Uto Ugi, il maestro Pappano, insomma ci stiamo muovendo per avere nomi di altrettanto livello al bicentenario, è evidente che poter celebrare un evento così importante come la vita così lunga di un teatro all'italiana, così bello, così ben tenuto e noi speriamo anche ben condotto, ma insomma questo poi lo dirà il pubblico, è qualcosa di importantissimo. Invece le sonorità celtiche saranno protagoniste nel concerto di domenica sera all'Aurum di Pescara, dei Donegal Woods, a partire dalle ore 21. Per il quartetto sarà l'opportunità di presentare il nuovo CD intitolato Wild Takas. Vediamo. Ci siamo appassionati circa un anno e mezzo fa a queste sonorità irlandesi e le abbiamo ritoccate, se vogliamo, anche in chiave un po' etnica, quindi le abbiamo contaminate in quanto il quartetto viene da esperienze varie, dal jazz all'etnica alla musica classica. E ci siamo rincontrati in quanto abbiamo suonato tante volte anche in altri progetti altrettanto importanti per formare questo gruppo e lavorare a questo progetto che poi è il CD che sta vedendo l'uscita in questi giorni. Ci abbiamo lavorato circa sette mesi, sei, sette mesi sugli arrangiamenti. Il CD è online praticamente dalla prossima settimana, è possibile acquistarlo su tutte le piattaforme, in quanto è distribuito e coprodotto dalla Azzurra Music. Abbiamo avuto l'opportunità di avere l'Ex Aurum come location per questo concerto. Sarà una bella serata dove sarà presente anche un'orchestra di giovani, l'Oiga di Ortona, l'orchestra di giovani accademici diretti dal maestro Paolo Angelucci. Questa orchestra ha anche partecipato alle registrazioni suonando in varie tracce del disco. Noi siamo molto presi e entusiasti di questo lavoro, siamo appena stati al Triskel Festival di Trieste, che è una manifestazione fra le più antiche d'Italia, di questo movimento celtico, diciamo, irlandese. Si fa da diciassette anni, abbiamo avuto un ottimo riscontro di pubblico, insomma, di critica da parte degli organizzatori. Speriamo di poter continuare in questo modo. Nuovo appuntamento domani sera con Malta Attack in Piazza Malta a Chieti, dove si esibiranno tante band locali. In collaborazione col Comune saranno attivate anche delle navette che agevoleranno i collegamenti con lo scalo. Quest'anno non ci sarà solamente Piazza Malta con il suo solito palco, ma avremo anche lo spazio della ex pescheria, lo spazio di Piazza Matteotti, dove verranno adibiti stand gastronomici e della musica. L'evento quest'anno cresce in quantità, viste le precedenti edizioni che hanno richiamato parecchi giovani nella città di Chieti. Quest'anno verranno anche incrementate le misure di sicurezza, successivamente ai fatti di Torino, che quindi hanno fatto mandare dal Ministero delle disposizioni per quanto riguarda la sicurezza, che noi stiamo cercando di garantire con incontri su incontri, un po' tutti i giorni, con la Prefettura, con la Questura, con il Comune. L'evento è domani, quindi tutto è pronto. Vi aspettiamo a Piazza Malta. Alcuni dei protagonisti, dei nomi più importanti di questa serata? In questo Malta Attack avremo come gruppo che chiuderà il palco, prima del DJ set, le stanze di Federico. Sono un gruppo di origini abruzzesi, che ha partecipato anche con le sue colonne sonore in film a livello nazionale, con un altro artista teatino, che è Maccio Capatonda, che molti conoscono. E poi avremo una serie di bande locali, perché noi ci teniamo a promuovere bande locali. Saranno agevolati anche dei collegamenti? Sì, con il Comune abbiamo predisposto dei collegamenti con l'Occhie di Scalo, quindi ci sarà la navetta che farà lo stesso percorso dell'Uno, che quindi permetterà agli studenti universitari, ma anche agli stessi cittadini di Chiedi, di potersi muovere in sicurezza. Apriamo adesso la pagina di sport, ovviamente partiamo con il Pescara, perché è tutto fatto per l'arrivo di Simone Andrea Ganz. L'attaccante lunedì dovrebbe essere a Pescara per le visite mediche, prima del ritiro che vedrà nella sua prima parte i Biancazzurri a Rivisondoli. Intanto però un altro obiettivo, Pessina sembra sfumare, perché il giocatore sembra aver preferito lo Spezia. Il futuro di Simone Andrea Ganz sarà presto a tinte biancazzurre, chiuso l'affare tra Pescara e Juventus per l'arrivo in Abruzzo dell'attaccante classe 1993, per una cifra che eseggera sui 2 milioni di euro, poco meno, e per un contratto di 5 anni al ragazzo che arriva in riva all'Adriatico a titolo definitivo. Battuta dunque la concorrenza del Palermo, che in realtà aveva provato più un'azione di disturbo sul giocatore, che però aveva da tempo già l'accordo con la società del presidente Sebastiani. Ganza di inizio settimana sarà a Pescara per sostenere le visite mediche, per poi partire alla volta di Rivisondoli, dove si concentrerà la prima parte del ritiro estivo agli ordini di Zdenek Zeman. Per un arrivo che si concretizza però ce n'è un altro che sfuma definitivamente, perché il centrocampista Matteo Pessina, di proprietà dell'Atalanta, dopo la chiusura dell'affare Conti Milan, ha scelto sì la Serie B, ma lo spezia di Fabio Gallo per la prossima stagione. Il ragazzo che ha disputato il mondiale Under 20 in Corea con la maglia azzurra, dopo aver sostenuto le visite mediche con i biancoazzurri, ha preferito accettare la Corte dei Liguri, sempre in prestito dalla società bergamasca. Il Pescara dovrà dunque trovarsi un obiettivo differente. Intanto Mamadou Koulibaly ha sostenuto le visite con l'Udinese, ma il centrocampista senegalese tornerà a pescare in prestito per un'operazione da 1.800.000 euro o più relativi bonus e solamente dall'estate 2018 sbarcherà in Friuli per iniziare una nuova avventura. In difesa a sinistra è venuto fuori anche il nome del 19enne scuola Lazio Luca Germoni, l'ultimo anno alla Ternana. Sebastiani ha ammesso l'interesse, ma ha escluso l'arrivo e in effetti in quella parte di campo, con Crescenzi e Biraghi ancora a disposizione, non ci sarebbe spazio per un ulteriore tassello. Esattamente come la situazione nella quale potrebbe ritrovarsi Ledyan Memushai. Da capitano ad alternativa, visto che l'arrivo di Palazzi e la conferma di Koulibaly sembrano già due segnali che di spazio per l'albanese potrebbe essercene di meno. In portal, dopo l'addio di Pigliacelli, destinazione Avellino, è probabile che Zeman richiederà espressamente un nuovo profilo da affiancare a Fiorillo, che almeno sulla carta parte con i galloni da titolare. In Lega Pro invece a Teramo è arrivata l'ufficialità, Stefano Amadio sarà in bianco-rosso per i prossimi due anni. Intanto a breve potrebbero essere ufficializzati i primi colpi in entrata. Per i prossimi due anni Stefano Amadio sarà ancora un giocatore del Teramo. L'ufficialità è arrivata nelle ultime ore, ma di fatto è una notizia che era già nell'aria da qualche giorno. Il centrocampista romano, dopo essersi svincolato per via della mancata affiliazione alla FIGC del Latina, era libero di poter valutare un nuovo accordo. E come era nelle previsioni ha scelto la squadra e la società, che aveva già scelto a gennaio, quando l'esperienza in Serie B non gli aveva dato quella nuova prospettiva che si aspettava. Amadio è dunque il primo vero rinforzo ufficiale, nonostante si tratti solo di una conferma. Una delle poche, perché nelle prossime ore il Teramo affronterà la questione con Marco Sazzovini, strada impervia col giocatore che un anno fa aveva deciso di declinare le offerte del Girone A per trasferirsi in Abruzzo. In questo caso il ADS Giorgio Repetto dovrà cercare una soluzione che allo stato attuale sembra abbastanza complicata. Nome in uscita anche quelli di Mirko Petrella, Stefano Scipioni, Simone Sales, Federico Carraro, Lorenzo Tempesti, Riccardo Barbuti e Mirko Spighi, col diavolo che invece sta per annunciare gli affari in entrata. Ventola, Diallo Calore e Milillo dal Pescara sono di fatto già da considerarsi biancorossi. Alimi quasi, così come Mazzocchi, mentre per l'attacco il sogna resta Matteo Chinellato. Poi sarà la volta delle mezze punte, quelle che dovranno sostenere il centro avanti, ma saranno discorsi da affrontare a partire dalla prossima settimana, che sarà l'ultima di vacanza prima del ritiro che scatta sabato 15 ad Alfedena. A proposito di mezze punte, anche Roberto Candido di fatto è un nuovo elemento su cui Antonino Asta potrà fare affidamento per la prossima stagione. Era libero dopo l'esperienza a Bassano, il diavolo ha in mano il sì del giocatore che presto potrebbe diventare anche lui biancorosso. Si svolgerà domani dalle 7 di mattina a Pineto, nelle acque antistanti, gli stabilimenti Santrope e Corfu, la decima edizione del trofeo di nuoto Città di Pineto. L'evento, come sempre, è organizzato dal gruppo Spatangus in collaborazione con l'area marina protetta del Cerrano, il patrocinio del comune di Pineto. Le novità per quest'anno sono intanto una percorrenza in più, quindi abbiamo aggiunto, oltre alla classica e alla doppia che è stata inserita l'anno scorso, una percorrenza da un miglio e mezzo che chiamiamo mezza. E questo ha portato il numero di atleti a crescere e siamo veramente contenti. E poi, come novità di quest'anno, c'è anche il trofeo di nuoto Città di Pineto, fa parte del circuito adriatico Acque Libere, che è costituito da 5 manifestazioni, e quindi siamo anche contenti di inaugurare questa nuova forma di nuoto in Acque Libere. Viene varata l'iniziativa del Miglio Blu, di cosa si tratta? È stato inaugurato lo scorso giovedì, è a cura dell'area marina protetta di Torre del Cerrano, ed è una percorrenza appunto di mezzo miglio, utilizzabile sia come incremento per il turismo, perché è una metratura specifica, quindi ci si può anche allenare, sia sulle percorrenze di velocità, che per chi vuole fare acqua libera, fare più volte appunto i giri. È un percorso sicuro in area marina, quindi rispetto per l'ambiente soprattutto, contraddistinto da boe, ed è una cosa che invito tutti i turisti e atleti a usare. E questo era anche il nostro ultimo servizio, vi ricordo domani mattina alle ore 8, l'appuntamento con la nostra rassegna stampa di mattino 6, il TG6 invece torna domani puntuale alle ore 14, è tutto, buonanotte. Grazie. Grazie a tutti.